ben ritrovati dalla redazione di cosmopolis media ecco le nostre notizie è finita come doveva finire la contesa per palazzo di città melucci ha vinto in maniera larga al primo turno perché non poteva perdere troppa la differenza tra le proposte in campo inesistenti gli avversari la politica è una scienza quasi esatta tradisce raramente l'elezione diretta dei sindaci con un sistema elettorale maggioritario a doppio turno lo stesso modello con il quale si elegge il presidente francese conferma gli uscenti quando hanno ben governato lo dicono le statistiche avrebbe dovuto suggerirlo ai suoi detrattori il buon senso la destra tarantina è un confuso cartello in cerca d'identità identità che non poteva fornire era di certo un candidato sindaco con storia e cultura disegno contrario il campo progressista taranto come nel resto del paese ha un senso anche senza i 5 stelle il partito di conte di fatto non esiste più non è né carne né pesce un orpello inutile su un abito passato di moda melucci adesso avrà la responsabilità di traghettare taranto verso un futuro di stampo europeo sostenibilità ambientale dell'ex silva e definizione del processo euro mediterraneo per il capoluogo ionico la partita andrà giocata tutta lungo queste due direttrici il futuro è oggi l'avvenire è poco indulgente con il tempo che scorre rinaldo melucci è di nuovo sindaco di taranto con il 60 per cento delle preferenze il candidato a capo della coalizione di centrosinistra ecosistema taranto rientra a pieno diritto a palazzo di città una vittoria a dir poco netta sul candidato di centrodestra walter musillo che si ferma al 29 virgola 84 per cento di voti ai microfoni di cosmopolis media musillo si è detto dispiaciuto di non essere riuscito ad intercettare quella parte di elettorato che ha scelto di non votare e affermato la volontà di continuare a difendere la città dai banchi dell'opposizione poco soddisfatto del risultato elettorale anche luigi abate che si ferma al 5 virgola 11 per cento massimo battista che ha raccolto il 4 virgola 16 per cento ha dichiarato di non avere rimpianti e di aver toccato con la sua campagna elettorale tutti i punti nevralgici richiesti dalla cittadinanza per entrambi è chiara la volontà di continuare a portare avanti le proprie idee e di fornire a taranto una vera opposizione grande soddisfazione per il presidente della regione puglia michele emiliano presenti a quasi tutto lo spoglio dei voti accanto a melucci questa è la vittoria di taranto e dei tarantini ha dichiarato questa città non sacrificherà più la salute dei suoi cittadini riprendiamo il lavoro da dove si era interrotto ha dichiarato a caldo rinaldo melucci questa vittoria dimostra che taranto è una città matura e consapevole che ha scelto di non tornare indietro è stato votato non tanto un sindaco quanto un modello di futuro ora lavoro in fretta per recuperare ciò che abbiamo dovuto interrompere a novembre scorso io da un punto di vista politico trago almeno tre insegnamenti il primo che il lavoro e i fatti pagano sempre quindi è inutile urlare inutile distrarre come dire i cittadini che sono sempre più consapevoli e maturi di come non vengono rappresentati c'è poi sicuramente un dato importante rispetto a questo campo largo progressista riformista ecologista che sta dimostrando contro anche devo dire un certo civismo trasformista che abbiamo visto allegato al centrodestra di funzionare di funzionare in tutta la regione di funzionare in particolar modo a taranto che è una città complessa e poi l'ultimo dato che ci dà grande soddisfazione insomma anche oggi una giornata meravigliosa abbiamo incontrato tanti cittadini sereni soddisfatti una comunità pacificata che vuole rimettersi in cammino è quel dato è quello che la città compreso il modello di transizione quel nuovo sviluppo che stiamo portando dalla città legato alle nostre identità le nostre bellezze distante da quella monocultura industriale che tante ferite ha recato al territorio se a taranto si è registrata una vittoria schiacciante del centro sinistra di rinaldo melucci con il 60 per cento delle preferenze nei sei comuni della provincia ionica in cui si è votato per il rinnovo dell'amministrazione comunale si sono verificate situazioni differenti a castellaneta in cui si è registrata un'affluenza alle urne del 70 per cento si andrà al ballottaggio tra il centrodestra rappresentato da alfredo oscar alfredino cellammare che ha totalizzato al momento il 49 per cento delle preferenze e il centrosinistra di giambattista di pippa che ha raccolto il 36,1 per cento dei voti l'elezione del nuovo sindaco è rimandata pertanto al 26 giugno a sava invece trionfa al primo turno il centrodestra con gaetano picchieri eletto sindaco con il 57,84 per cento di voti mentre si ferma al 42,16 per cento il centrosinistra di giulio rossetti vittoria netta anche a martina franca dove è stato eletto sindaco il candidato di centrosinistra gianfranco palmisano che con il 51,82 per cento di voti ha battuto l'avversario di centrodestra mauro bello che ha totalizzato il 45 per cento delle preferenze dei cittadini eletto al primo turno anche il sindaco di leporano è stato riconfermato il primo cittadino uscente vincenzo damiano con il 48,3 per cento dei voti contro il 35,89 per cento totalizzato dall'avversario filippo pavone a palagiano dove si è registrata un'alta affluenza di cittadini alle urne circa il 71 per cento si andrà invece al ballottaggio tra il sindaco uscente domenico piola signa attualmente in vantaggio con il 44,28 per cento delle preferenze e pietro rotolo che ha raccolto il 28 per cento dei consensi elezione del sindaco rimandata anche per mottola il 26 giugno si sfideranno al ballottaggio il sindaco uscente giampiero barulli al momento in testa con il 31,19 per cento dei voti e angelo lattarulo votato dal 28,91 per cento dei concittadini arrestato dai carabinieri di taranto un 45enne del posto per aver minacciato e violentato la ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento alla metà dello scorso maggio infatti la donna si era recata presso la stazione principale dei carabinieri di taranto e aveva trovato il coraggio di denunciare l'ex compagno l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione dovuta proprio ai suoi comportamenti violenti e possessivi a seguito della rottura il 45enne aveva cominciato a perseguitare la ex tanto da aver ricevuto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l'allontanamento dalla casa familiare tuttavia due giorni fa l'uomo avrebbe violato gli obblighi disposti dall'autorità giudiziaria e avrebbe sorpreso la donna presso la sua abitazione di cui conservava ancora le chiavi obbligandola successivamente con violenza e minacce a subire un rapporto sessuale a seguito di questa ennesima denuncia da parte della donna i carabinieri hanno rintracciato l'uomo ed essendo in possesso di una serie di gravi indizi sulla sua colpevolezza l'hanno arrestato e condotto presso la casa circondariale di taranto arrestato per stalking un 64enne residente a grottaglie l'uomo non aveva accettato la decisione della moglie di separarsi da lui e nonostante la stessa avesse presentato nei suoi confronti una denuncia in cui raccontava i comportamenti persecutori e intimidatori dell'ex marito non aveva desistito dal perseguitarla in diverse occasioni infatti l'uomo oltre ad aver minacciato di morte la ex compagna si era postato nei luoghi che lei maggiormente frequentava l'aveva pedinata inseguita con la macchina e le aveva anche distrutto i vestiti la donna per paura di nuove reazioni violente dell'ex marito era stata costretta a cambiare la serratura della porta di casa a seguito di questa escalation di violenza la polizia di grottaglie aveva organizzato un servizio di osservazione per impedire ulteriori aggressioni durante uno di questi turni i poliziotti hanno sorpreso l'uomo mentre girava numerose volte con la sua auto intorno all'abitazione della donna per poi recarsi sotto casa e citofonare all'ex compagna a quel punto per il 64enne scattato l'arresto per flagranza di reato di stalking l'uomo si trova attualmente ai domiciliari se il piano di colata fosse stato occupato come accade di solito da decine di lavoratori ora parleremmo di una strage annunciata e questo il commento di franco rizzo coordinatore provinciale di usb taranto riguardo ciò che è avvenuto presso l'alto forno 1 dell'ex silva nel pomeriggio del 12 giugno nella mattinata del 13 giugno acciaieri d'italia comunicato che ghisa liquida e loppa ad altissime temperature erano fuoriuscite dalla tubiera e avevano invaso il piano di colata che in quel momento era vuoto perché il forno è ripartenza rizzo stigmatizza il tentativo dell'azienda di sminuire l'accaduto e invoca un immediato intervento del governo secondo il coordinatore provinciale di usb taranto gli impianti hanno bisogno di manutenzione per continuare a lavorare senza mettere a rischio la vita dei lavoratori il calo di produzione inoltre porta alla cassa integrazione dei dipendenti e alla crisi dell'indotto messo in ginocchio dal ritardo del pagamento delle fatture se il governo non mette sul tavolo un pacchetto di risorse per mettere i lavoratori in sicurezza ha dichiarato rizzo non escludiamo manifestazioni di protesta in occasione dell'incontro col ministro dello sviluppo economico il prossimo 22 giugno coronavirus il bollettino del 14 giugno segnala 39.474 nuovi casi e 73 decessi in italia il tasso di positività aumenta rispetto al giorno precedente e si in calo l'occupazione ospedaliera scendono a 183 i degenti in terapia intensiva mentre diminuiscono a 4.199 le persone ricoverate in area non critica in puglia il bollettino regionale segnala 3.004 casi e 8 decessi nelle ultime 24 ore i contagi attestati nel tarantino sono invece 314 in totale sono 20.548 le persone attualmente positive al covid nella regione di cui 206 ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva si è svolta nel primo pomeriggio del 14 giugno a bordo di nave martinengo ormeggiata la stazione navale margrande di taranto la cerimonia di avvicendamento del comando dell'operazione mare sicuro un'operazione che prevede il dispiegamento di un dispositivo aero navale atto a garantire attività di presenza sorveglianza e sicurezza marittima nel mediterraneo centrale e nello stretto di sicilia allo scopo di garantire la libertà di navigazione nell'area alla presenza del comandante in capo della squadra navale ammiraglio di squadra aurelio de carolis il contramiraglio luca pasquale esposito ha ceduto l'incarico di comandante tattico all'ammiraglio di divisione vincenzo montanaro sono attività che si svolgono in alto mare quindi c'è una presenza di navi anche non appartenenti alla nato e mediterraneo c'è sempre stata a noi il compito di svolgere attività di sorveglianza l'operazione mare sicuro che continua dal 2015 ininterrottamente da un costante presidio di sicurezza beneficio del paese la protezione degli interessi nazionali e degli alleati nell'ambito della nato e dell'unione europea è una presenza che si riscontra in modo come è stato anche evidenziato più volte negli ultimi negli ultimi tempi più intenso in relazione all'evoluzione della situazione internazionale questo è certo è fondamentale l'addestramento noi da sempre la marina nel più ampio contesto della nato sviluppa procedure addestrata per fare questo così come lo sono le altre forze armate io sono entrato in marina agli inizi degli anni ottanta e abbiamo vissuto l'evoluzione della situazione internazionale nel corso del tempo posso dire che siamo addestrati preparati e abbiamo anche mezzi moderni che ci consentono di svolgere al meglio la nostra missione beh è importante il controllo della delle informazioni nel rispetto del delle norme a cui noi dobbiamo attenerci del regolamento di disciplina militare della sicurezza tutela del segreto nazionale soprattutto oggi in un'epoca in cui la comunicazione ha una rilevanza notevole e la disseminazione delle informazioni può avvenire attraverso diverse diverse fonti dalla redazione di cosmopolis news è tutto al prossimo aggiornamento dell'intervento